Minchia, iniziamo bene, eh Oiii, luco Minchia, ma quanta gente c'è qua Eh, non posso reanimarti, zio Sei nella brutta zona Madonna mia, come lo uccide Ne posso steccare qualcuno col corpo a corpo? Per favore, per favore Menz Eh, ho finto la dinamite Però posso distrarre il carro, così gli alleati passano Via di qua, via, 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 che c'è gente Via No, 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 no Sono morto per il compagno Porco No, ma Che cazzo mi sta sparando? Guarda quello dove sei me Ah, madonna mia, madonna mia Aspetta, adesso iniziano gli insulti censurati Sei un fadre Ok, mi sono purificato anche stavolta Preso Può passare da fuori? Io vorrei solo sapere Se ci sono persone normali in questa partita Se no, prendo esco E pazienza Camperane basta, ok? Era supporto quello, ho capito Però porco Non so se c'è qualcuno camperato No, vabbè, non era camperato però C'è qualcuno qua sotto? Minchia, non l'avevo visto Stavo guardando più in alto Zio, ti reanimo io, vai No, no Sei un pirla, zio Lo reanimavo io che sono full vita Eh, niente Minchia, cambiate un po' di armi Madonna, sempre i soliti Sempre i soliti Oh, uso io l'STG per 3 video Oh, zio, però basta con sto STG Se giocare solo con quello Che cazzata Aspetta, c'è uno che mi guarda da là, mi sa Preso Colpo singolo è veramente preciso di sto fucile Vedete che rincula comunque Preso Ancora sdraiato Vediamo se riusciamo a beccarlo Eccolo, guarda Eh, scusa Suomi KP31 Stavo ammazzando un tuo collega Che si campera a fondo mappa Con la Brenna Da staccargli veramente le palle, guarda Eh, da lontano Devo mettere il colpo singolo Purtroppo mi ha trovato in una Occasione strana Via di qua Abbiamo ucciso un medico La mia dinamite fa sulla Ma che cazzo ci avete messo dentro lo zucchero? Quanta gente Via di qua Via, via, via No, al pompa Sono morto Madonna mia Benz, benz, benz No, no, la ghia che mi spara Basta, va No, è camperato sul treno quello Beccati sta steccata brutto Finito pure le munizioni Ho finito Figurati se qua ti danno le munizioni Sono nel server Dello scorso video Perché sto registrando di seguito Figura Porto munizioni Mi devi dare le munizioni Su porto perché io sto per morire Niente, non me le vuole dare Non ti danno le munizioni Ah, ok, le ha messe, le ha messe, le ha messe Occhio che ti arrivano pure da dietro di qua, eh La breda è veramente forte Non era così, raga, ve lo giuro, eh Io l'ho usata Era, boh, l'arma perfetta per i git marker Nemico camperato Vabbè, era sull'obiettivo giustificato, dai Ho preso Carabina M2 Vabbè, dai, sta difendendo Schippa, schippa Tanto su questo gioco non rianni Ma nessuno stava arrivando Madonna mia Le abitudini sono così Sì, ragazzi Se su questo gioco non rianni Ma nessuno L'abitudine di schippare tutto L'avrò presa da qualche parte Ok N'altra but Basta Basta Sto giocando per le kill Su Battlefield V si fa così Mi sembra, no? Hanno un vizio di buttare i fumogeni A random Madonna mia Saprei io come farglielo levare Se di bustare i rimasci Fidiamo che diventano Sarebbe se comunque Sennassano i rimasci Chi l'ha ucciso? Questo da qua? Ah, da dietro Ho capito Ho preso in testa Zio, tieniti che ti rianimo Tieniti, tieniti Che arrivo Sì, ce la faccio Ci provo Ci provo Non ti assicuro nulla Sento dei passi Si è morti tutti A posto così Eccolo Ho preso Via di qua Via No Dai zio Non Sento dei passi Madonna mia Si vede un cazzo Qua dentro Da dietro? Ma come? Mi dispiace zio Se il medico Ma lento Ti becchi sta kill Volevi fare il carro alleato Eh Mab 38 Quando batte Fid si decide a mettermi In un server Combattuto Invece che nella solita squadra Di sponchillati Che hanno comprato oggi il gioco E che vi devo dire ragazzi E che vi devo dire Provo a rianimare questo Che c'è un fumo davanti Si c'è un fumo C'è un fumogeno davanti Ancora? Ma chi è che lo uccide? Ah è sto pezzo di merda Fatto Seconda animazione zio Metti sul conto Preso Avete delle munizioni qua? Pezzi di merda no? L'hanno fatto Ci servono delle munizioni raga Che le ho quasi finite Con due raffiche L'ho ammazzato Mi ricordo il primo video Registrato con quest'arma Con quattro raffiche Poteva capitare Un hit marker Un hit marker Nel senso che Non lo uccidevo Con quattro raffiche Complete non lo uccidevo Quel quadrato si rianima Ah ok No Casomai non lo sapesse Non si sa mai Può essere scontata come cosa Ma trova ancora persone Che ti scambiano l'arma Questo vuol dire Che non hai ancora capito Come si rianima Madonna mia Senza mi rassistita Un bel macello Questo che cazzo fa? Guarda come giocano Guarda 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 Va a cercarsi Led glitch Guardalo Meno male Io non sono nato storto Meno male Meno male Potrò essere anche Scarso negli fps Ma la cosa importante È non nascere storti Come questi Medico Dovresti lanciare un fumogeno Per terra A questo punto E rianimarmi No Ha preferito farglielo fare A uno con una classe diversa Da quella del medico Perfetto Vedete come si va avanti Su Battlefield 5 Vedete Il tuo fucile a pompa Te lo ficchi nel culo E poi premi il grilletto Potrebbe piacerti In base al tuo stile di gioco Posso dire che Potrebbe piacerti Una cosa del genere Ma perché sta gente Mi spona di là Cioè non ho capito Tienti il tuo medico Trembi Convinto di fare I suoi flinchini Del cazzo Con la sua grisgan Mettitela nel culo Madonna mia Io su sta mappa Non ci vedo Puttana di quella Iva bastarda Passiamo da fuori Sì Campera lì Prova reanimare Tenetemi Sì tenetemi Copritemi Ti avverto Non me ne frega un cazzo Perché su Battlefield 5 Si gioca per le kill Qualcuno con la molotov No 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 Dove è camperato questo Preso No 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 Preso Ma quanta gente C'è là sopra Preso No no da dietro Basta da dietro Ammazza mi da davanti E la finiamo qui No piuttosto Da di Ancora Cioè mi giro Dalla parte opposta I colpi arrivano di lamo Mi prendete per il culo Ditemelo Non pure senza kit medico Il compagno mi spona sopra Medico Figurati se mi da il kit medico Figurati Niente Vabbè dai bravo Bravo Sei più forte di me Bravo Oddio mi ha reanimato Occhio eh che c'è il tizio con la carbine M2 Raccomandato Occhio Gli rincula verso il basso l'arma Preso Ma sempre lui Uccido Ma che cazzo è Beca ti sta steccata Lucy mi hai rotto il cazzo E ti beggo pure Menz 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 Cabons 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 Ok Cazzo fa il compagno Supporto Siamo quasi sconfitti Dove sei Ma già una sconfitta È Giocare a questo gioco Non hai capito Commentatore L'unica vera sconfitta È giocare qua Gente su C Bel lavoro Obiettivo Cesar Che becchi sta steccata nella schiena T'aspettavo lì Miki Non ho le munizioni Raga Io devo capire Perché su quest'arma Ti mette pochi colpi Cioè non ho capito Sul Thompson Gli ne metti mille di colpi Finiti i colpi Ora sono finiti veramente Quanta gente muore qua Sento dei passi Di un elefante No 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 Non era lui Che mi stava sparando No 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 E sono morto Per forza Cedric Cosa stai facendo Ma che livello è questo Mamma mia idea 54 Io direi che uno Dovrebbe aver capito Come si gioca Smirato un botto Ma l'importante è uccidere Come ha fatto a non morire Pazienza Non lo voglio sapere Con questo secondo O terzo video Del Breda Adesso non mi ricordo Quanti ne ho fatti Posso tranquillamente dire Che l'arma Non è più come una volta Finalmente gli hanno dato Un minimo di senso Non sto dicendo Che sia fortissima Però diciamo Che sotto le palle Ce li ha stavolta L'ultima volta Che l'avevo provata Su una mappa Del pacifico Se non sbaglio Veramente 4 raffiche Per ammazzare E' imbarazzante Concludo la partita Con 53 kill 20 morte Sono tante Ma inevitabili Con una squadra Del genere Quindi Ragazzi Per questo video è tutto Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo video Ci vediamo alla prossima Un saluto a tutti Ciao Ciao